Ancora giù il rapporto positivi tamponi. Oggi 246 nuovi casi a fronte di 4.566 test, ovvero poco oltre il 5%. I nuovi casi riguardano persone d'età compresa tra 2 e 102 anni. 56 di queste sono residenti in provincia dell'Aquila, 47 in provincia di Chieti, 79 nel Pescarese e 57 nel Terramano, mentre per 5 sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. 18 i decessi. Il bilancio delle vittime sale a 1.102, d'età compresa tra 42 e 96 anni, 4 in provincia dell'Aquila, 6 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti, 6 in provincia di Terramo e 1 residente fuori regione. Del totale odierno un caso riguarda un decesso dei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla ASL. 787 sono invece guariti. Ad oggi in Abruzzo i positivi accertati sono 13.425, meno 561 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. 584 pazienti, meno 15 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 49, meno 7 rispetto a ieri, con un nuovo ricovero in terapia intensiva. Mentre gli altri 12.792, meno 539 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale della Sanità.